Donna non significa violenza, è stato questo il tema dell'incontro che si è tenuto ieri sera nella parrocchia Santa Maria dell'Idria di Biancavilla, un'occasione per parlare della piaga della violenza sulle donne che purtroppo, come testimoniano le cronache quotidiane, è molto attuale. A portare i saluti in una chiesa stracolma di gente, il parroco Don Giovanni Battista Zappalà, la presidente dell'azione cattolica parrocchiale Rosetta Cantarella e il governatore della confraternita Santa Maria dell'Idria Giovanni Dagati. A moderare l'incontro l'avvocato Anna Ingiulla, ospiti speciali invece Vera Squatrito, mamma di Giordana Di Stefano, la giovane uccisa dall'ex convivente il 7 ottobre del 2015 a Nicolosi, e Don Antonino Sapuppo, direttore dello studio teologico San Paolo di Catania. Siamo dinanzi ad un vero e proprio scempio dell'umanità, in quanto la donna viene utilizzata come desiderio anomalo delle relazioni interpersonali, soprattutto si fraintende l'amore con la possessività e quindi è un problema molto serio, perché oltre all'evento, alla violenza, vi è un problema antropologico, vi è un concetto non corretto della relazione fra uomo e donna. Riflettere sul femminicidio e sulla violenza nei confronti delle donne significa riflettere su un'esigenza, che è un'esigenza di formazione dell'uomo nella relazione con la donna. La Chiesa come può intervenire? Intanto formando le coscienze, come fa e continuerà a fare a condannare qualsiasi forma di violenza, definita violenza di genere, perché siamo dinanzi alla relazionalità, come dicevo, fra uomo e donna, e portando avanti quei valori inalienabili, non solo della dignità della persona umana, ma del rispetto dell'altro e delle diversità. La donna com'è vista nella città biancavillese? La donna è, devo dire, molto apprezzata dal punto di vista umano, dal punto di vista affettivo. Sappiamo che la donna è il punto di riferimento di ogni famiglia, anche delle parrocchie è il punto di riferimento, però sappiamo che ci sono dei casi particolari e purtroppo non sono isolati, dove la donna è soltanto considerata una schiava o altro. E quindi purtroppo c'è, certamente c'è questa valenza molto positiva della donna, però c'è questa realtà purtroppo vera, reale. Come sacerdote, come parroco, in 30, quasi due anni di sacerdozio, ho avuto diverse opportunità di poter parlare con donne, giovani, uomini, di vario genere, ovviamente anche caso di donne particolari, che in qualche modo mi hanno lasciato turbate. E soprattutto quello che mi fa soffrire è la impotenza di poter fare qualcosa per queste persone. Questo incontro di stasera serve proprio per questo, per dare uno spiraglio di luce, di speranza, perché la comunità cristiana, la parrocchia, le parrocchie, la chiesa non è avulsa dalla realtà, in questo caso la festa della donna o i drammi che stiamo scoprendo in questi ultimi periodi. Quindi la conferenza di stasera serve proprio per risvegliare un po' in tutti noi la necessità di muoverci e fare qualcosa perché ci sia un'inversione di rotta su questa violenza sulle donne.